Questo video riguarda i migliori tre filtri per acquario. Il vincitore della qualità è l'Iger Filtri Acquario. Uno filtro a doppia spugna con due contenitori più uno sacchetto di sfere di ceramica più due spugne di ricambio Sperr. Basta usare un tubo dell'aria da 4 mm, collegare un'estremità alla pompa dell'aria e l'altra estremità al filtro. Il tubo di uscita dell'acqua può essere esteso e ruotato, è possibile regolarlo sopra o sotto la linea di galleggiamento. È possibile rimuovere facilmente le due spugne dal filtro per pulirlo o sostituirlo. Le due spugne vanno bene 60 pixel per pollice, il che significa più superficie per far vivere i batteri benefici. Il filtro dell'acquario combina biofiltrazione, ossigenazione e filtrazione fisica in uno. Le spugne intrappolano le particelle di detriti più grandi e l'acqua pulita senza catturare piccoli pesci. Il filtro piccolo è adatto per acquari da 38 L e 151 L. Il filtro medio è adatto per acquario 57 L 208 L. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il microfiltro interno. Dotato di una pompa acquario e doppi medi filtranti, può filtrare l'acqua, aggiungere ossigeno e formare una fontana allo stesso tempo. La pompa è davvero silenziosa, che non disturberà i pesci. L'ingresso d'acqua adotta recinzioni relativamente strette per impedire efficacemente ai pesci e ai gamberetti di entrare nel filtro. Si consiglia di sostituire il blocco di schiuma ogni 30 giorni. Con 5 potenti ventose è facile posizionare il filtro nell'acquario e fissarlo alla parete dell'acquario. Il vincitore del premio è il Noblesa Filtro Interno. L'acqua trattata dal filtro è cristallina e sicura per i pesci, permettendoti di goderti al meglio la vita nell'acquario. Una varietà di opzioni di alimentazione, adatte per acquari da 100 L 500 L. Filtro interno dell'acquario ad alte prestazioni, ideale per la filtrazione meccanica, biologica e chimica. Il filtro è completo e fornisce tutti i materiali e i componenti necessari per un rapido avvio. Pulsanti pratici possono essere attivati rapidamente e facilmente. Mentre la valvola consente di controllare con precisione il flusso dell'acqua, chiudere completamente la valvola per isolare la possibilità del filtro dalla circolazione dell'acqua. Il filtro è certificato C e è facile da usare. Si prega di leggere il manuale di istruzioni quando si utilizza il prodotto. Il prodotto può essere garantito per 12 mesi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.